benvenuti all'interno di un'altra puntata di javascript in pillole una breve serie in cui vado a spiegare alcuni concetti che possono aiutarci a consolidare può a comprendere meglio alcune delle principali pratiche o comunque concetti che si utilizzano magari uno sviluppo di reak di core act perché io ho un corso ed è finalizzato appunto a o spiegare approfondendo alcuni di quei concetti che utilizzo l'interno del corso o per molti dare alcune basi rafforzare alcune basi e consolidare alcune basi per comprendere meglio alcuni procedimenti che vengono effettuati con frequenza su quel framework l'argomento della lezione di oggi è il metodo reduce uno sicuramente non dei più semplici sia da comprendere che che da spiegare perché non è assolutamente intuitivo che cosa serve reduce reduce ci permette accedendo a quella che la call back function stesse che possiamo appunto passare come primo parametro ai nostri map filter find find index chi più ne ha più netta che ci permette di accedere non solo questa volta a al parametro item index e la rei ma ci permette di avere quattro parametri di cui il primo corrisponde a un valore dal quale inizierà sempre la successiva interazione andiamo a vederlo all'opera per capirne meglio il funzionamento andiamo quindi definire somma array semplice che sarà uguale ad array semplice dot e passiamo la nostra call back function accedendo a quello che ci serve il primo valore tendenzialmente viene chiamato o accumulatore o total generalmente rappresenta quello che il valore precedente della precedente iterazione non lo chiameremo total tante volte lo troverete come h lo chiamo totale il secondo e light and corrente che stiamo iterando il terzo parametro l'index e il quarto e l'intero array andiamo a con solo gare un po tutti questi elementi per vedere un po davanti a che cosa ci troviamo ok e come vedete abbiamo questo in cui il primo valore e che corrisponde quindi in questo caso a total e 1 perché la nostra iterazione partirà dal nostro primo valore dopodiché abbiamo come item 2 e come index ovviamente 1 perché non ci troviamo esattamente in questo punto al momento l'ultimo array abbiamo il nostro array dopodiché ci troviamo nella condizione di avere subito undefined questo perché perché il metodo red us ci obbliga a ritornare manualmente quello che il valore di partenza per la successiva iterazione non ritornando niente ritorna and defined quindi abbiamo come totale and defined 32 se io qua andassi a proporre ritorno total come vedete avremo sempre uno perché total corrisponde sempre a al valore che che io ritorno non è che diventa il valore precedente nel senso che prima è uno poi diventa due poi diventa tre poi diventa 4 5 6 ma rappresenta quello che io ritorno ogni volta se io andassi a dare ritorno più item ecco che mi troverai nella posizione di ritornare effettivamente quello che è la somma di tutti gli elementi perché ogni volta ritorno total più item e questo elemento sarà quello che nella prossima iterazione corrisponderà a total nel momento in cui arriverò alla fine dell'array avrò la somma dei miei elementi ok infatti giungo al risultato di 15 in cui si sente 1 più 2 3 più 3 6 più 4 10 più 5 ok questo è un esempio molto pratico di come funziona ovviamente nel caso io andassi invece che passare da array semplice ma avessi array scusatemi iniziale ecco che ottengo un problema questo perché perché il primo valore ok in questo caso che io tengo total corrisponde a il primo valore all'interno del mio array quindi questa roba qua e in questo momento posso accedervi ritornando total più item io in questo momento sto andando a pasticciare sommando quelli che sono degli oggetti no qui questa roba qua e total questo è la item questo è la posizione l'indice questo è l'intero e vedete che qua inizia ad avere un po di casino e ovviamente non arrivo assolutamente alla fine ad avere la somma del mio array e uno dice ok perché tu a total ovviamente devi sommare item dot qt se io quando essere vero dot qt no che mi dovrebbe cambiare qualcosa e infatti io vedete che ho 4 più 1 però poi dopo sono di nuovo nella condizione in cui sto sommando di nuovo un oggetto perché il primo valore di total che ottengo è esattamente questa roba qua e ti dice ok se quella roba lì vai a mettere dot qt qua e facciamo bene proviamo così in questo caso sono assolutamente non nella posizione di portare ad una vera somma perché nei momenti in cui ok facciamo la prima somma va bene total e questa roba qua quindi vado ad avere uno più item dot qt che a sua volta e 4 ottengo 5 ma poi 5 dot qt che ovviamente è andefine andefine di più qt not a number e quindi ho questo tipo di problema come lo risolvo questo problema posso passare un altro valore a quello che è il mio reduce al fondo che corrisponde al valore di partenza di total in questa maniera lui non partirà da dal primo elemento all'interno dell'array ma partirà dal valore 0 al quale poi andrò ad aggiungere manualmente item dot qt e quindi avrò sempre un numero e in questa maniera riesco ad ottenere la somma delle mie quantità come vedete è esattamente 10 questa è la spiegazione del metodo reduce spero di avervi aiutato un pochino di più con la comprensione fatemi sapere se se c'è qualcosa che non vi sia ancora chiaro che ci vediamo nella prossima pillola